Ciao, sono Carlo e sono uno studente del Conservatorio di Milano. Vi volevo presentare il mio strumento, che è appunto il violoncello. Questo è uno strumento cordofono a sfregamento, cioè il suono si ottiene dallo sfregamento dei crini dell'arco con la corda, mettendolo in vibrazione. Con il violoncello si possono ottenere vari tipi di suono, per esempio il suono pizzicato, il suono flautato, che appunto richiama il suono di un flauto, e il suono vibrato. La vibrazione della corda viene amplificata appunto dalla cassa armonica, e il suono da qui esce attraverso le F poste appunto sulla cassa armonica. Questo è uno strumento fatto di acero e di abete. Le corde principali del violoncello sono Do, Sol, il Re e il La. La meccanica principale di questo strumento sono i piroli e i tiracantini, che permettono di accordare lo strumento. Poi c'è il punticello, che permette di tenere le corde sollevate dalla tastiera e distanti tra loro. Poi c'è la cordiera, che permette insieme ai piroli di tenere in tensione le corde. Il violoncello è uno strumento che ha le stesse estensioni della voce umana, cioè circa quattro ottave e mezzo. Poi c'è la cordiera, che permette insieme ai piroli di tenere in tensione le corde. Poi c'è la cordiera, che permette insieme ai piroli di tenere in tensione le corde. Questa era l'allemanna della prima suite di Bach.